Ma Anca, cos'è se dentro? E' si, si, no, non stavamo... No 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 Allora Però è tanto meraviglioso Meraviglioso Ti ho capito? Eh si Se uno ca... ...perde male... Se mi riesci anche... ...se ne sanno tanto rompi te e basta Ma te lo rompi anche qui Allora Pio, allora Ti ha anche mezza volta Si va... Ti ha da ritoccare... per toccare sempre qualcosa ti ha messo una gamba in una roba per farlo al corteo perfetto meraviglioso meraviglioso perfetto avanti, avanti vedi ti va bene rupo per toccare non cate e so